Mentre i sardi attendono fiduciosi le risposte agli annossi problemi dell'isola, la Presidente Tode si diletta nella sua passione di navigatore all'interno di un'automobile da rally. Vediamo il servizio di Bebbo Madetu. È stata un'esperienza incredibile, ma soprattutto io sono qua per quello che rappresenta questo evento e quello che rappresenta questa iniziativa. Noi vogliamo conservare il rally di Sardegna con l'impianto di lenti perché rappresenta un legame di più di 20 anni con il territorio. C'è un entusiasmo incredibile, abbiamo visto l'aspettativa di tante persone, quello che comporta anche in termini di sviluppo nei territori dove l'evento arriva. E quindi io sono qua soprattutto per dire che la Sardegna ama il rally e vuole mantenere il rally per molti anni ancora.